L'isola di Pasqua è un'isola vulcanica dell'Oceano Pacifico Meridionale, situata a 3.700 chilometri dalle coste del Cie. È una delle isole abitate più isolate al mondo e la sua storia e cultura sono avvolte dal mistero. L'isola è famosa per le sue grandi statue monolitiche, chiamate Moai, che si ergono su piedistalli di pietra. I Moai sono scolpiti in tufo vulcanico e possono raggiungere un'altezza di oltre 20 metri. La maggior parte dei Moai è stata realizzata tra il XIII e il XVI secolo, durante il periodo di massimo splendore della civiltà polinesiana che abitava l'isola. Le origini della civiltà di Rapa Nui sono ancora oggetto di dibattito tra gli studiosi. Secondo alcuni, i primi abitanti dell'isola sarebbero giunti dalla Polinesia intorno all'anno 1000. Altri ritengono che sarebbero arrivati da un'altra parte del Pacifico, forse dalla Melanesia. La civiltà di Rapa Nui era una civiltà avanzata, con una propria lingua, una propria religione e una propria cultura. Gli abitanti dell'isola erano agricoltori, pescatori e navigatori esperti. Erano anche abili artigiani e artisti. I Moai erano probabilmente legati alla religione della civiltà di Rapa Nui. Si ritiene che rappresentassero gli antenati degli abitanti dell'isola o gli dèi. I Moai venivano eretti in luoghi sacri, come gli Aus, piattaforme di pietra che si affacciavano sul mare. La costruzione dei Moai era un'impresa titanica. I blocchi di tufo da cui erano scolpiti potevano pesare fino a 80 tonnellate. Gli abitanti dell'isola utilizzavano delle leve e delle funi per spostare i blocchi e delle rampe per trasportarli fino agli Aus. La civiltà di Rapa Nui raggiunse il suo massimo splendore nel XIV secolo. In questo periodo, l'isola era abitata da circa 20.000 persone. Tuttavia, nel XV secolo, la civiltà iniziò a declinare. Le cause del declino della civiltà di Rapa Nui sono ancora oggetto di dibattito. Alcuni studiosi ritengono che sia stato causato da una serie di fattori, tra cui la deforestazione, la guerra e la carestia. Altri ritengono che sia stato causato da un'epidemia. Nel XVII secolo, l'isola era abitata da appena 2.000 persone. Nel 1722, l'isola fu scoperta dagli europei, che la trovarono in uno stato di degrado. Oggi, l'isola di Pasqua è una destinazione turistica popolare. L'isola è abitata da circa 7.000 persone, che vivono principalmente di turismo e pesca. I Moai, un mistero ancora irrisolto. I Moai sono uno dei misteri più affascinanti dell'isola di Pasqua. Non si sa con certezza perché siano stati costruiti, né come siano stati trasportati e eretti. Una teoria è che i Moai rappresentassero gli antenati degli abitanti dell'isola. Un'altra teoria è che fossero legati alla religione della civiltà di Rapa Nui. Una terza teoria è che fossero semplicemente opere d'arte. La questione è ancora dibattuta tra gli studiosi. Tuttavia, una cosa è certa. I Moai sono una testimonianza della grandezza e della complessità della civiltà di Rapa Nui.